Ciao a tutti cari amici di Viti Sapientia e benvenuti ai nuovi iscritti che sono veramente tanti, grazie infinite! Per chi ci conoscesse da poco, Viti Sapientia è un'associazione di archeologi e di altri professionisti dei beni culturali. Questo è il nostro canale YouTube, ma siamo attivi anche su Facebook e su Instagram e anche sul nostro sito, ricordatevelo sempre, più di 600 articoli di approfondimento www.vitisapientia.it Detto questo, cominciamo con il video, sigla! Oggi parliamo di qualcosa che non tutti conoscono, soprattutto le persone che non sono del mestiere, ma cerchiamo di affrontarlo nel modo più semplice possibile e più chiaro soprattutto. Novembre è il mese che dedichiamo ogni anno alla morte, ma sta per finire e sono veramente addolorata di ciò, moltissimo. E il lamento funebre è una manifestazione molto intima, molto personale, ma contemporaneamente pubblica, pubblica e partecipativa. Probabilmente non avete mai ascoltato un lamento funebre, o forse sì, magari non ve ne siete accorti. In zone estremamente rurali d'Italia è ancora praticato, ma da persone molto anziane, ma devono essere molto 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 anziane. E praticato, si fa per dire, ce n'è ancora una certa reminiscenza, ma è stato effettualmente praticato fino a non molto tempo fa. Devono essere persone, abbiamo detto, estremamente anziane, tipo per esempio mia nonna che è morta l'anno scorso a 96 anni. Ecco, infatti, ad Amatrice abbiamo il lamento funebre nella nostra tradizione. Lo avevamo anche nella nostra frazione, Casteltrione, ma ovviamente non è più praticato. E io è proprio qui che l'ho conosciuto, grazie a mia nonna, che lo ricordava vagamente. Conosceva il testo, lo aveva visto eseguire quando era molto più giovane, ma non sapeva fosse un lamento funebre. Sì, l'aveva sentito, l'aveva visto, magari una volta sola, fine, stop. Nel tempo, in realtà, io l'avevo sentito a stralci, canticchiati alla rinfusa, distrattamente, ma non l'avevo riconosciuto. E non l'ho fatto fino a quando, circa 15 anni fa, lessi questo libro. Che vi consiglio, come tutte quante le opere di De Martino, che sono estremamente interessanti. Ed è grazie a questa lettura che ne riconobi la forma, come il lamento funebre. Shock! Quando nonna lo canticchiava, dondolava avanti e indietro con il torace, con il corpo, e non lo faceva per le altre canzoni. E più che una canzone, in effetti, era una cantilena molto lamentosa. Il suo schema comprendeva nell'ordine, causa della morte del defunto. Lamento della moglie del morto che invoca il marito. Disperazione per essere stata lasciata sola. Il lamento funebre va eseguito a ridosso della salma e prevede una forma canonizzata a seconda della cultura di appartenenza. Il pianto, il lamento, il movimento oscillatorio, l'uso delle mani per portarsene al volto, ai capelli, o usate tenute davanti a sé continuando ad oscillare. Così. E nonna effettivamente faceva così. O così. Da me a Casteltrione lo facevano soltanto le donne, ma in altri luoghi era eseguito anche da bambini, possibilmente orfani. Orfani e vedove vanno proprio alla grande, nelle attività funebri, se li litigano proprio. Oppure lo fanno soltanto i familiari del defunto. In altre parti viene praticato da altri tipi di persone e ci sono anche dei professionisti, o meglio c'erano dei professionisti del pianto. Quindi sì, possiamo dire che ci sono diverse variabili, diverse varianti a seconda della zona. Da dove viene questa tradizione? La risposta è abbastanza facile, è il mondo greco ad avercelo trasmesso. Ed è rimasto fortemente impresso nella nostra cultura, e parlo soprattutto anche della mia zona, per circa i 60-70 anni precedenti ad oggi. Ma anche, forse anche più fortemente in molti paesi del sud d'Italia, anche in tempi più recenti. Beh, pensate che Pasolini ci ha fatto un lavoro, così, per dire. Il lutto e probabilmente la morte, insieme alla nascita, sono le uniche due enormi cose che riguardano tutti, tutti gli esseri umani, tutta la natura. Ed è normale aver elaborato il lutto e la morte in determinate forme, anche per un senso di conforto. Quello che mi sorprende è l'essersi mantenuto così bene fino a non molto tempo fa. Ma andiamo con ordine. Il lamento funebre, abbiamo detto, trova le sue testimonianze in Grecia, e ne abbiamo degli esempi eccezionali, specialmente uno che è il mio preferito, il vaso del Vipilon, che vi metto qui. Cioè, raga, guardate che decoro geometrico meraviglioso. Guarda, cioè, c'è il morto sdraiato, la gente che piange, tutto. E anche qui si vedono delle lamentatrici, la gente che piange. Potrebbero anche essere, in questo caso, dei parenti, delle donne, della famiglia, del morto. Non è detto che siano lamentatrici pagate. Ma il defunto, a quanto pare, era veramente molto ricco, quindi avrebbe potuto permettersele comodamente. E questo vaso è stato eccezionale, anche perché ci ha permesso di ricostruire delle fasi del rito funebre di quella determinata tradizione. Una delle fasi più intense del rito funebre greco era la protesis. Il defunto veniva tutto quanto bello lavato, preparato, agghindato per bene, tutte cose, ed esposto. Perché a questo punto, una volta terminata la preparazione, come la nostra camera ardente, no, veniva esposto al benvolere della famiglia, quindi che portava i suoi omaggi. E accanto alla famiglia c'era uno spettacolo inquietante di gente, di donne che si dilaniavano per il dolore. Piangevano, urlavano, si strappavano i capelli, si strappavano le vesti. E avevano una particolarità. I capelli sciolti sono, in antichità, un segno di lutto. E quindi disfacevano le loro acconciature. Probabilmente l'avete visto anche in qualche film. Anche i parenti non è che fossero da meno, eh. Si tagliavano ciocche di capelli, li bruciavano, si squarciavano i vestiti. Un macello. Tutti quanti dovevano esporre pubblicamente il proprio lutto, il proprio dolore. Eppure questa apparente confusione aveva tutta quanta un senso, una ritmicità, una forma standardizzata. Era tutto calcolato. Anche questo era un rito, con delle regole ben precise. Ve l'ho spoilerato prima solo a pensiero. Ma era a questo punto che volevo dire che le lamentatrici, troppe L per me, le lamentatrici erano delle persone pagate per farlo. E anche in tempi non troppo passati, ma neanche troppo recenti. Oh, se vi occorre una lamentatrice al prossimo funerale, non dovete fare altro che chiedere, in prezzi modici. Che mi si paghi per lamentarmi è praticamente il sogno di una vita. Adesso lo faccio gratis. Lamentarsi e struggersi per il morto era un lavoro. E queste donne ci mettevano tantissimo impegno, piangevano a più non posso. Versavano litri di lacrime e in alcuni contesti le raccoglievano pure. Dimostravano così di essere le migliori lamentatrici acquistabili sulla piazza per il prossimo funerale di famiglia. Avevano un nome specifico ed erano un'istituzione. Si chiamavano prefiche e vengono anche menzionate nell'Opera America. Vennero vietate a Roma ad un certo punto perché erano un tantino too much. E si sa, i romani ad un certo momento della loro esistenza decisero che queste cose un po' troppo ostentate non erano l'ideale per la loro società. Ma sono state a lungo impiegate anche con l'accompagnamento di musici. Il loro canto si chiamava Nenie, molto cadenzato e lamentoso. E andava ripetuta questa Nenia un certo numero di volte simbolico. 3, 6 o 9 volte tutti i numeri che ritornano nella simbologia e nella ritualità funebre romana o del mondo antico in generale. Dicevamo che queste lamentatrici, questo lamento funebre era utilizzato in Italia sia nelle mie zone che soprattutto nel sud Italia. E guarda un po', mica un caso, il sud Italia ha avuto influenze greche. Sicuramente molti di voi ne hanno sentito parlare come i vicini abruzzesi e gli amici campani, molisani, calabresi, sardi, pugliesi. Avete mai sentito un lamento funebre? Ve lo dico io, sì, l'avete sentito. Come faccio a saperlo, dici? Sta, ce lo so. Avete mai sentito parlare del trio lescano? No? Davvero sono così vecchia? Queste belle signore tra la prima e la seconda guerra mondiale cantavano Maramao perché sei morto, canzone scritta nel 1939. No, vabbè, non sono così vecchia, su. Che senso ha questa canzone? Nessuno. Vi metto una parte del testo qui, così mentre parlo la potete leggere. Quello che i bambini, ma anche gli adulti, del periodo successivo pensavano canticchiandola o leggendola è che fosse una canzone dedicata ad un gatto, Maramao, morto prematuramente. Sicuro, proprio un tema adeguatissimo al periodo tra le due guerre. Dopo, sul dato innamorato, Maramao perché sei morto ci stava benissimo. No, raga, non parlavate un gatto che mangiava l'insalata. Questo lo fa soltanto nena. Maramao è la volgarizzazione, fraintendimento, chiamatelo come vi pare, di Amara me. È un'esclamazione vedovile. Amara me, perché sei morto? riferito al marito defunto. Anche il lamento funebre del mio paese si apre con un'esclamazione del genere, che ha come soggetto me, cioè la vedova, che esegue la canzone. È anche l'ultima parola della frase, proprio uguale, lo stesso costrutto. Le origini di questa canzone sono un po' di battute. Io sono sostenitrice della teoria, che mi sembra ben più di una teoria, che deriva invece dal lamento funebre, e nello specifico dal lamento funebre abruzzese. E ne ho empiricamente, praticamente la prova, per la somiglianza con il nostro. E Amatrice è stata Abruzzo fino a circa il 1926-1927. Quindi ecco siamo là, siamo Abruzzo praticamente. Abruzzo ripigliaci, per favore. Il titolo originale della canzone sarebbe Mara Maie. È molto più antica, ma è stata trascritta nel XVIII secolo, nei pressi di Scanno. E sarebbe anche nota come Scura Maie. Che è anche un'altra esclamazione tipica delle mie parti. E la cosa si fa interessante, perché questo test, e vi metto qui lo stralcio, menziona anche lo scioglimento dei capelli, in segno di lutto. Wow! Ditemi nei commenti se conoscete qualche lamento funebre, e vi prego, rivelatemi tutti i dettagli, perché sono estremamente curiosa. Ho deciso di non approfondire il funerale greco e romano, perché hanno bisogno di video tutti loro. Vi lascio invece in descrizione il link ad un video che ho fatto precedentemente sulle sepolture infantili e sui rituali. Nel contesto di Roma Antica, vi consiglio di guardarlo. Spero che questa storia vi sia piaciuta, e se è così, lasciate il vostro like al video, seguite il canale, seguiteci sui social, su Facebook e su Instagram. E noi ci rivediamo sempre qui, lunedì prossimo alle 15, con un nuovo video. Ciao!